Ben trovati, hanno sempre detto di voler riformare il nostro Paese, riformarlo come un'azienda, un'azienda efficiente, capace di garantire il vivere quotidiano sereno a tutta la collettività e invece non è successo ciò. E questo è il vero fallimento di Berlusconi, così come in Puglia doveva cambiare tutto, non dovevano esserci gli sprechi, la sanità doveva essere rivoluzionata e invece anche nella nostra regione non è avvenuto nulla di quanto è stato prospettato sei anni fa. Di chi dobbiamo avere fiducia? Per quale motivo dobbiamo credere ancora alle loro promesse? Perché dobbiamo ascoltare Berlusconi che dice le tasse saranno abbassate e poi vengono reintrodotti i ticket? Perché dobbiamo dir sì a Vendola che afferma tutte quelle che erano le spese delle consulenze esterne, degli sprechi per una comunicazione clientelare fatta dalle altre giunte. Io certamente non sbaglierò facendo le stesse cose e poi è avvenuto ugualmente quanto era rimproverato ad altri. Ecco, questo è il problema di noi cittadini, che cambiamo magari il voto con la speranza e poi avvertiamo invece la stessa latitanza dagli impegni assunti durante le campagne elettorali, con super stipendi, con super indennità, con valutazioni che non garantiscono noi e con azioni legislative che non soddisfano il nostro voler essere elettori attivi di questo Paese. Grande dibattito in questi giorni sta avvenendo, per non parlare sempre soltanto di economia e di quanto ci derubano, virgoletto, il derubano quotidianamente, grande dibattito intorno a una riforma della legge elettorale, la famosa porcheria di leghista stesura ma di complicità berlusconi-andalemiana, perché a tutti piace questo sistema elettorale in cui ci si può nominare gli amici, gli scodinzolatori e tutti coloro che avvertono l'esigenza non di garantire i nostri diritti ma di garantire l'autoconservazione loro e dei loro capi e capetti. Anche il PD si è spaccato in questa fase, perché oltre all'errore fatto di astenersi per paura o perché non si è avuto il coraggio della cancellazione delle province e quindi una base si è indignata, oggi una base, ma anche alcuni riferimenti nazionali del Partito Democratico hanno avviato un referendum, una raccolta di firme per un referendum che possa, speriamo, cancellare l'attuale legge elettorale. E ci sono anche dei dalemiani convinti a volerciò, quindi degli esponenti della politica del PD anche a livello periferico che hanno votato Bersani, lo stesso che ha tentato di fermare questa raccolta di firme. Dall'altra parte invece non si ascolta nulla, c'è il silenzio più completo. La cecità di una parte del gruppo dirigente del popolo delle libertà sta proprio in questo, del farsi scippare dalle mani delle idee che potrebbero anche ridare consenso allo stesso PDL e allo stesso Berlusconi. Perché se questa legge elettorale è odiata, non ci credo, da molti, perché in molti hanno avvertito l'errore di questo nuovo metodo per eleggere deputati e senatori, beh, per quale motivo? Non fare una raccolta di firme per abrogarla e farla assieme, tra coloro che sono liberi mentalmente nel PD e coloro che sono ugualmente liberi nel PDL, forse un giorno, un domani, anche quei capi che oggi sono contrari a questo mezzo, perché l'affermazione fatta è che non c'è bisogno di giungere sempre ai referendum, se vi è un gruppo dirigente responsabile. È vero, ma la più grande verità è che questo gruppo dirigente trasversalmente non si sta rendendo responsabile e credibile ai nostri occhi, perché ogni volta che bisogna attuare una riforma si considera prima l'aspetto personalistico o di parte, se io faccio quella riforma posso vincere meglio o posso perdere meno peggio, è questo ciò che viene pensato quando si tenta di fare qualcosa. Non si fa l'analisi che quella riforma potrebbe portare a una maggiore democrazia e coinvolgimento dei cittadini o quella nuova azione potrebbe aiutare ulteriormente la collettività. Ogni azione è pensata prima, è fatta per garantire l'autoconservazione o la serenità del partito della casta. Tanto è vero che nel recupero del 10% della detrazione delle indennità dei consiglieri regionali che già hanno avanzato richiesta di recupero, come vi ho detto ieri, ma non solo in Puglia, in tutta Italia, questi signori affermano oggi che è demagogia e populismo inveire su questo aspetto. Per cui siccome era giusto che la nostra indennità fosse alta, i segnali lanciati per 5 anni a voi cittadini, a voi elettori, a voi telespettatori attraverso tutte le trasmissioni, non erano altre che metodologie per placare la nostra rabbia e la nostra indignazione. Ecco perché dobbiamo continuare a star con gli occhi aperti. Se questo succede a cascata a livello periferico in tutto il nostro paese, io la prossima settimana vi farò conoscere quanto coraggio è mancato ai governi Prodi, Prodi prende due o tre pensioni, ai governi Berlusconi di rivedere, e la maggiore responsabilità lo ha proprio il leader del popolo delle libertà, perché da un'azienda viene, è un'azienda che ha creato posti di lavoro, un'azienda solida, quindi con una visione diversa, pensavamo che fosse, della politica e del modo di lavorare. Il grande errore fatto da tutti quanti, da Prodi a Berlusconi, di non aver cancellato, e ve li farò conoscere, ci sono enti inutili nel nostro paese che portano via alle risorse dello Stato milioni di Euro e molti di questi enti sono realmente ridicoli già nel loro nome. Pensate un poco se dovessimo riflettere sulle loro funzioni, ma non sono ridicoli per coloro che fruiscono di questi enti perché portano a casa mensilmente bei quattrini. Buona domenica, lunedì!